Giù le mani da Federico Vasquez e Pasquale Maiorino, chi pensava che uno dei due con gli arrivi di Perez e Patierno potesse partire, si sbagliava di grosso. Il gioiello di San Marten è reduce da un'annata piuttosto complicata tra infortuni, covid e ricadute. Poi la frattura allo zigomo nel match interno contro la Paganese, una serie di ostacoli che ne hanno condizionato la stagione in termini di continuità e di realizzazioni, visse le appena cinque reti segnate contro le 13 del 2019-2020, ma con Perez andrà a riformarsi una coppia da 26 gol in un campionato interrotto tra le altre cose dal covid. I due e Z finali sono pronti a riprendere il filo. Anche Maiorino è reduce da un'annata complicata, prima la rottura con il Livorno, poi la lunga trattativa per il ritorno alla Virtus. In campo non è riuscito a fare la differenza soltanto perché non aveva tanti minuti nelle gambe e perché ha risentito della sfiducia della squadra. La sua è stata una fase di rodaggio in vista del prossimo campionato, adesso il numero 10 che comincerà il ritiro con la Virtus di Taurino. Si candida ad essere il fantasista della squadra, il rifinitore dietro il tandem Vasquez-Perez o Patierno o Ciccone, un Francavilla dall'attacco spietato pronto a puntare forte sui suoi goleador.